Qui Radio Revan, Radio della Repubblica Socialista Sovietica dell'Armenia. I nostri ascoltatori ci domandano, è possibile costruire il socialismo in un solo paese? Rispondiamo, cari compagni, è possibile, ma poi è meglio andare a vivere in un altro. La bella utopia che prosegue il lavoro del libro uscito per Enaudi, lavoratori di tutto il mondo, ridete. Perché occuparsi della storia dell'URSS proprio oggi, in questo momento storico? Per una ragione molto semplice. Questa storia è stata buttata sotto il tappeto della spazzatura della storia con troppa disinvoltura e troppa strumentalità revisionistica, di un revisionismo un po' così ciabattone che mira solamente a trarre, a raschiare vantaggi elettorali. Non è un caso che si cominciano ad avere problemi con la Russia di Putin. Allora è meglio andare dentro quella storia, essere onesti, fino in fondo, perché è una storia complessa, dolorosa, travagliata. Dove ci sono stati i crimini di Stalin? È stato un sistema a struttura autoritaria e poliziesca, anche quando non c'era Stalin. Tuttavia ha avuto un'evoluzione, una storia e poi gli uomini che hanno vissuto in quel sistema non sono stati dei numeri con delle casacche da gulag. L'approccio critico e non basato sull'ideologia rigida è ancora molto faticoso da noi. E allora si preferisce usare formule e formulette, moltiplicare i morti, dividerli per due, dissepellire i cadaveri e farne scempio. A me non piace questa roba. Io mi occupo di uomini e soprattutto mi occupo di vinti, di sradicati, di minoranze, di coloro che hanno saputo essere uomini anche nelle circostanze più oscure. I comunisti e il socialismo reale non sono la stessa cosa, perché chi ha conosciuto i comunisti sa che non sono la stessa cosa. Ce ne sono stati di così, ma ce ne sono stati di natura umana completamente diversa. Uomini con un'abnegazione, uno spirito di sacrificio, un amore per la libertà, un amore per le loro terre. Faccio sei nomi di comunisti. Antonio Gramsci, Umberto Terracini, Giorgio Amendola, Nilde Iotti, Enrico Berlinguer, Giorgio Napolitano. Quando si sentono questi nomi, chi pensa ai gulag? Nessuna persona per bene può pensare ai gulag. E poi erano comunisti. Allora vuol dire che c'è stata una storia schizofrenica. L'umorismo ebraico è filosofia del paradosso, critica della ragione paradossale, per spararla un po' grossa. Ha una grande pietas per la fragilità dell'uomo, è autodelatorio, è rivolto sempre verso se stessi. Ridere di se stessi è la cosa che ci risparmia dalle tirannie e dal crederci chissà chi. E una sola storiella ci può raccontare un'intera temperia epocale, gliene racconto una. Il vecchio ebreo sovietico Rabinovich è nella sua comunalca, che era l'appartamento collettivo dove ogni famiglia aveva una stanza, si alza all'alba e si mette in fila per andare al bagno, perché il bagno era uno, dieci, undici persone in fila. Quando è il suo turno, col suo bicchiere e il suo spazzoletto sgangherato, entra e, contrariamente a quello che ci si aspetterebbe, va diretto verso lo specchio, uno specchio tutto ossidato, pieno di grafi, sbrecciato. Lui cerca un pezzettino di specchio sano in quella rovina, lo trova, guarda se stesso dritto negli occhi e dice alla sua immagine nello specchio, non ci prendiamo in giro noi due, uno di noi ha un delatore.